L'ampliamento delle transazioni commerciali dovuto alle vendite online ha anche visto uno spostamento del mezzo, i di internet, come commissione di reati come le truffe, reso appunto possibile dal web. La compagnia Carabinieri Casale Monferrato è da tempo impegnata con successo nel contrasto di queste azioni criminose, dove spesso il malfattore è senza volto ed è di difficile individuazione. Le ultime tre scoperte con le rispettive segnalazioni a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tornone di Vercelli sono soltanto la punta di un iceberg molto più ampio e il frutto di un lavoro molto grande messo in campo d'allarma con risultati che sono più che apprezzabili, visto anche il numero di denunce riscontrate agli ultimi mesi. In particolare questa volta i Carabinieri alla stazione Rosignano Monferrato hanno denunciato un 47enne di Chieti che aveva venduto un motore Yamaha 350 al valore 320 euro danneggiando così con la truffa un 44enne di Cellamonte. I militari della stazione Ticinetto invece hanno denunciato un 52enne di Gallarati in provincia di Varese con precedenti penali per aver truffato un imprenditore di 42 anni di Valmacca con una compravendita, tra virgolette ovviamente, di un generatore elettrico del valore di 250 euro. Infine un 51enne di Fubina che aveva acquistato un trattore Carraro per 900 euro da due pregiudicati di 51 e 63 anni era stato truffato. Le indagini dei Carabinieri della locale stazione Fubine hanno a loro volta portato ad identificare i due responsabili e alla loro segnalazione come indagati alla procura di Vercelli.